Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati nel canale di MySeghiMonster Allora Ok stavo dicendo Allora oggi finalmente sono riuscito a prendere spugna rara E poi oggi Ho svegliato Picchietto come vi avevo detto ieri E oggi proveremo a svegliare Doom Doom Che ci sto provando in tutti i modi Intanto ho fatto un full corn Perché se ho 4 full corn Non mi ricordo tutti i mostri che servono Non mi ricordo tutti i mostri Che 4 full corn, 4 pompon, 4 spugne E 4 obiezioni Che però Sto cercando di fargli la tattaccia Allora sei perdita Non è più perdita? No non è più verde Ok andiamo nei risultati Questo è se ho avuto Che? Che lo so che l'arrope le perdite Io non lo so non è l'isola di dolce bash non è l'isola delle ossa non è l'isola eterea il santuario magico poi stop bellissimo con più mosti sarà bello è bello il santuario magico ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto per te dare un like iscriviti al canale e in un prossimo video ciao 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 ciao